Ciao, mi chiamo Lorenzo Pernigotti, sono maestro di sci alla scuola di sci di Courmayeur e vi aspetto per la gara della St. Louis on the Slopes. Se volete venire ad allenarvi la settimana prima, io sarò alla scuola e impariamo a tirare delle belle curve per vincere questa gara. Ciao ragazzi! Grazie a tutti!